E' stata revocata l'ordinanza che interdiva la balneazione nelle località marine di Falconara e Monte Grande. I due provvedimenti, come si ricorderà, erano stati emessi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro dall'ufficio circondariale marittimo coordinato dal tenente di vascello Luca Montenovi, in seguito a due distinti ritrovamenti subacquei dei armi risalenti quasi certamente allo sbarco alleato del luglio 1943. C'è stato il pericolo e è venuto meno il senso dell'ordinanza, con le due zone che sono tornate ad essere open per la balneazione. Le operazioni di recupero e messe in sicurezza delle due aree erano state espletate dal gruppo operativo subacqueo della Marina Militare, proveniente da Augusta. Il loro intervento era stato richiesto dalla prefettura di Agrigento dopo il primo rinvenimento nei pressi di Falconara e l'informativa trasmessa dalla Capitaneria di Porto. Il corpo speciale della Marina, dopo aver operato una ricognizione subacquea per sincerarsi da vicino della condizione delle armi che giacciono sul fondale e della loro eventuale pericolosità, ha recuperato dal fondale alcune cassette di munizioni e un mitragliatore. A dare supporto ai sub della Marina, il gruppo archeologico Finzia della Guardia Costiera Ausiliaria. I rinvenimenti hanno avuto individuazioni differenti. Per quanto concerne quella di Falconara, erano stati sub della Finzia da notare le cassette contenenti i proiettili e armi sul fondale. Nel secondo caso, invece, le munizioni sono state notate da un privato cittadino a un metro e mezzo di fondale, quindi a una bassa profondità e a circa 30 metri dalla riva. Una volta rimosse le condizioni di pericolo, il circomare ha firmato la revoca dell'ordinanza con l'area che è tornata nuovamente fruibile a transito, ormeggio, pesca e qualsivoglia attività marittima per una distanza di un raggio non inferiore ai 100 metri. Il mare, nelle scorse settimane, ha però continuato a restituire reperti risalenti con ogni probabilità al secondo conflitto mondiale. I sub del gruppo archeologico Finziade hanno infatti riportato a gallo un fanalino o lanterna di segnalazione, probabilmente della LST-158, nave americana andata distrutta sulla spiaggia 70 ad Ilicata. Si tratta di nuovi rinvenimenti che andranno ad arricchire il Museo del Mare, all'interno del quale verrà allestito un allestimento che riguarderà da vicino la Seconda Guerra Mondiale, andando ad incrementare i reperti già in esposizione visitabili all'interno della Tolos di via Guglielmo Marconi.